Musica Prima visita a Trieste del segretario nazionale dell'Italia dei Valori, Ignazio Messina, che questo pomeriggio ha preso parte a un convegno sul gioco d'azzardo. In mattinata ha tenuto con il segretario nazionale Luca Santarossa una conferenza stampa. Sentiamo da Messina da dove il partito intende ripartire. Trieste dei Valori è stato protagonista di quello del rilancio del centro-sinistra in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo sostenuto l'attuale governo e l'attuale presidente. Noi vogliamo dare e continuiamo a dare il nostro contributo in questa direzione. Chiediamo che la svolta e il cambiamento partano proprio da questo, intanto nel rispetto del lavoro già fatto e soprattutto anche per guardare insieme al futuro. Stiamo lavorando in questo senso in tutta Italia, stiamo ricostruendo la coalizione centro-sinistra dappertutto. Crediamo che dove questa coalizione c'è già stata e ha già vinto, credo che ora deva cominciare a dare risposte. Noi siamo qui anche per assumerci le nostre responsabilità.